Musica Il diritto a giocare, quando a scuola a imparare, avere almeno un nome e la nazionalità Musica Sindaco la dobbiamo interrogare, lei sa quali sono i diritti dei bambini? No, no, sono interrogato E allora i doveri dei grandi? Meggio ancora Eh, è una cosa grave questa No, i bambini hanno il diritto alla gioia, va bene Alla gioia, al gioco e soprattutto hanno il diritto di essere amati E che non è questo un fatto scontato in una società distratta In una società convulsa che sta, come dire, dimenticando quel sistema valoriale che è fondamentale per la crescita dei bambini E hanno diritto ad una scuola sicura, hanno diritto ad una scuola pulita E poi hanno diritto al fatto che i grandi creino quelle condizioni perché, diciamo, loro possono vivere e avere la prospettiva, almeno il sogno, coltivare il sogno di un mondo migliore Noi dobbiamo lasciare un mondo migliore, migliore di quello che... e dobbiamo fare di più di quello che riusciamo a fare Quanta attenzione pone l'amministrazione da lei guidata nei confronti del mondo dei più piccoli? Beh, io devo dire che c'è una discreta sintonia, diciamo, tra l'amministrazione comunale, il settore della pubblica istruzione e le scuole di ogni ordine e grado C'è un fronte comune per affermare appunto quel sistema di valori a cui facevo riferimento prima E questo è un dato non di poco conto Poi certo, mancano l'infrastrutturazione, mancano i parchi giochi, non c'è una cura adeguata per gli spazi pubblici Le nostre scuole, come per tutto il resto del paese, hanno delle criticità che stiamo cercando di affrontare Si fa quel che si può, ma almeno nel cuore, nelle intenzioni, diciamo questa attenzione c'è Grazie